Signori imperatori, re Tucci e tutte altre genti che volete sapere delle diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro dove troverete tutte le grandissime maraviglie delle genti d'Arminia, Persia, Tarteria, d'India, siccome Messer Marco Polo, nobile cittadino di Minegia, fece mettere per iscritto tutte queste cose a Messer Rustico da Pisa, orvo contato lo prologo del libro di Messer Marco Polo, che comincia qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.